Dalla Santa Casa di Loreto, trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario, con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni. Dalla Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che ci seguono da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria, Regina della Famiglia, per le famiglie cristiane, affinché siano consapevoli di essere immagine dell'amore esponsale di Gesù Cristo per la Sua Chiesa. L'angelo del Signore porto l'annunzio a Maria e nella concepita e opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Eccomi sono la serva del Signore. Si compie in me la Tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Infondi nel nostro spirito la Tua grazia, oh Padre. Tu che nell'annunzio dell'Angelo ci hai rivelato l'incarnazione del Tuo Figlio, per la Sua passione e la Sua croce guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ave, piena di grazia. Ave, Vergine Maria. Ave, piena di grazia. Ave, Vergine Maria. Nel primo mistero, la risurrezione di Gesù. Pater nostro, qui es in Cieli, santificetur nomen Tum. Adveniat regnum Tum, fiat voluntas Tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nostra malo. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta Tui mulieribus, benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta Tui mulieribus, benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta Tui mulieribus, benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta Tui mulieribus, benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta Tui mulieribus, benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta Tui mulieribus, benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta Tui mulieribus, benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta Tui mulieribus, benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, regina della pace, prega per noi, prega per noi. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Nel secondo mistero, l'ascensione di Gesù al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà come in cielo così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di Dio, prega per noi, prega per noi, prega per noi. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservarci dal fuoco dell'inferno. Porta tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Nel terzo mistero, la discesa dello Spirito Santo sopra Maria Vergine e gli Apostoli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, prega per noi, peccatori, adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della Tua misericordia. Nel quarto mistero, l'assunzione di Maria al cielo in anima e corpo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di Dio, prega per noi, prega per noi, prega per noi, prega per noi, prega per noi. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Nel quinto mistero, l'incoronazione di Maria, regina degli angeli e dei santi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà come in cielo, così in terra. Dasci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Dios te salve, Maria, piena eres de grazia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre todas le mujeres, e bendito è il frutto del Tuo vientre, Gesù. Dio te salve, Maria, piena eres de grazia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre todas le mujeres, e bendito è il frutto del Tuo vientre, Gesù. Dio te salve, Maria, piena eres de grazia, il Signore è contigo. Dio te salve, Maria, piena eres de grazia, il Signore è contigo. Dio te salve, Maria, piena eres de grazia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre todas le mujeres, e bendito è il frutto del Tuo vientre, Gesù. Dio te salve, Maria, piena eres di grazia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre todas le mujeres, e bendito è il frutto del Tuo vientre, Gesù. Dio te salve, Maria, piena eres di grazia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre todas le mujeres, e bendito è il frutto del Tuo vientre, Gesù. Dio te salve, Maria, piena eres di grazia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre todas le mujeres, e bendito è il frutto del Tuo vientre, Gesù. Dio te salve, Maria, piena eres di grazia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre todas le mujeres, e bendito è il frutto del Tuo vientre, Gesù. Dio te salve, Maria, piena eres di grazia, il Signore è contigo. Dio te salve, Maria, piena eres di grazia, il Signore è contigo. Dio te salve, Maria, piena eres di grazia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre todas le mujeres, e bendito è il frutto del Tuo vientre, Gesù. Dio te salve, Maria, piena eres di grazia, il Signore è contigo. Dio te salve, Maria, piena eres di grazia, il Signore è contigo. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, regina della pace, prega per noi, prega per noi. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Salve, Regina, Mater misericordiae, vita dolce do, espes nostra salve. A te clavavos, exudes fili e ele, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. E, Ia, Ergum, Advocata nostra, illos Tuos misericordiae, oculos, ad nos converte. E, Ia, Ergum, benedictum fruttum ventris tuim, nobis postoc exilium nostrende. O, Clemens, O, Pia, O, Dulcis Virgo Maria. Signore e Pietà, Cristo Pietà, Signore e Pietà, Signore e Pietà, Santa Maria, prega per noi, Santa Madre di Dio, prega per noi, Santa Vergine delle Vergini, prega per noi, Madre di Cristo, prega per noi, Madre della Chiesa, prega per noi, Madre di misericordia, prega per noi, Madre della Divina Grazia, prega per noi, Madre della Speranza, prega per noi, Madre Purissima, prega per noi, Madre sempre Vergine, prega per noi, Madre Immacolata, prega per noi, Madre degna d'amore, prega per noi, Madre del Buon Consiglio, prega per noi, Madre del Creatore, prega per noi, Madre del Salvatore, prega per noi, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, Arca dell'Alleanza, Porta del Cielo, Stella del Mattino, Salute degli infermi, Rifugio dei peccatori, Conforto dei migranti, Consolatrice degli afflitti, Aiuto dei cristiani, Regina degli angeli, Regina dei patriarchi, Regina dei profeti, Regina degli apostoli, Regina dei martiri, Regina dei confessori della fede, Regina delle vergini, Prega per noi, Regina di tutti i santi, Regina del rosario, Regina della famiglia, Regina della pace, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Perdonaci, Signore, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Ascoltaci, Signore, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore Dio di pace, in comunione con Maria, la Madre di Gesù, ti supplichiamo, parla ai cuori dei responsabili delle sorti dei popoli, Ferma la logica della ritorsione della vendetta. Suggerisci con il tuo spirito soluzioni nuove, gesti generosi ed onorevoli, spazi di dialogo e di pazienza attesa, più fecondi delle affrettate scadenze della guerra. Concedi al nostro tempo giorni di pace, mai più la guerra. Amen. Sotto la tua protezione, cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, Vergine gloriosa e benedetta. Angelo di Dio, che sei mio custode e illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo. Dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Tu doni al mondo la speranza, doni la pace, tu accogliesti il Signore. Nella semplicità di Nazareth, donando al mondo la salvezza, Cristo Signore, Santa Madre di Dio, che risplendida grazia, tu ci accogli nella tua casa, Con fiducia noi veniamo a te, Santa Madre di Dio, che risplendida grazia, Tu ci accogli nella tua casa, con fiducia noi veniamo a te. Abbiamo trasmesso, dalla Santa Casa di Loreto, l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.